Presso il centro trasfusionale dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dalle ore 8 e 30 alle ore 13, nei giorni domenica 9 maggio e domenica 23 maggio, l'Associazione Donatori Volontari di Sangue organizza due giornate di raccolta straordinaria ed invita i cittadini del Cilento a recarsi presso il presidio ospedaliero per effettuare la propria donazione di sangue. In questo periodo di emergenza pandemica è bene ricordare che oltre al coronavirus sono presenti tante altre patologie che necessitano di attenzione ed è per questo motivo che l'Associazione ha organizzato queste due giornate di raccolta straordinaria. La dotazione di sangue presso le strutture ospedaliere del territorio è sempre più ridotta ed è per questo motivo che bisogna essere al fianco dell'Associazione Donatori Volontari di Sangue per dare il proprio contributo. Donando il sangue si compie il gesto d'amore più autentico che spesso può salvare delle vite umane.